...2, proveniente da Roma, che è diretto a Milano, centrale delle ore 15 e 39, e il partito di infarto ad inario 2. Attenzione, allontanarci dalla linea gialla, che va a Chiari, Radaglio, Genova, Ricci, Genova, Ricci, Garnier, la prima classe è in tutta la terra. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.